Bentornati sul canale giornalismo del Cuore Italia 1. Oggi con le ultime notizie come Kate Middleton è una delle donne più belle al mondo, semplicissima, ma è sulle sue, elegante insomma la sua bellezza è indiscutibile anche se a quanto pare non è del tutto naturale Kate Middleton.La duchessa si sarebbe sottoposta a piccoli interventi estetici parecchio costosi che secondo le malilingue avrebbe potuto pagare soltanto perché ha avuto la fortuna di sposare il principe William La realtà è ben diversa perché come scrive la stampa Brit il suo patrimonio era già ricco prima, infatti ammonta a 5,3 milioni di sterline ovvero 6 130.711, 39 euro e non grazie al Royal Wedding.Già da prima del 29 aprile 2011, Kate era ricca in particolar modo grazie al lato paterno della sua famiglia perché tra gli antenati di Michael Middleton il padre di Kate c'è anche un parente stretto di Neville Chamberlain, ovvero il primo ministro inglese degli anni 30 La famiglia di mamma Carol invece, ha origini proletarie.Alcuni parenti erano minatori del Sundeerlandè della Contea di Dern, altri aristocratici, baronetti settecenteschi, discendenti dei Plantageneti, una delle dinastie regnanti in Inghilterra fino al XV secolo Kate Middleton, quanto ha speso in un anno.Ad ogni modo nel corso degli anni Kate Middleton ha fatto rifare alcune parti del suo corpo che l'hanno resa ancora più bella ed affascinante Si è sottoposta ai primi ritocchini nel 2005, quindi più di 15 anni fa Secondo quanto affermato da fonti attendibili a lei vicine, il primo intervento sarebbe stato un ritocco al naso All'epoca la Middleton aveva soltanto 23 anni, in occasione della sua laurea richiese come regalo un intervento di rinoplastica Nel 2011 si sarebbe ancora una volta sottoposta ad un ritocco estetico, sempre al naso, per degli aggiustamenti che hanno fatto la differenza sul suo viso Il naso però non è l'unica parte del corpo rifatta perché qualche anno fa a termine delle due gravidanze si è rifatta il seno anche se nessuno ci ha mai fatto realmente caso perché non è stato un intervento considerevole La Middleton non potrà mai esporsi sulla questione perché non può violare il protocollo Quel che è certo è che ogni anno spende circa 37.728 dollari e che il suo chirurgo grazie a lei si è praticamente arricchito Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità Ci vediamo nei prossimi video Ciao